Il più sincero è tranquillo, auguro di un felice Natale e naturalmente per quanto riguarda invece... Sì, il microfono perché purtroppo... Niente, dicevo, spero che per tutti sia un anno fortunato, prosperoso, ma soprattutto la cosa principale è la salute. Se non c'è quella, insomma, non si può fare nulla. Dico bene? Siete d'accordo con me? Hai conto nel senso? Passo la palla a Miranda. Io, oltre alla tranquillità e alla serenità, mi auguro che ci sia un po' più di lavoro per tutti, soprattutto più a Monopoli perché tutti conosciamo il dramma degli ultimi tempi, quindi un pochettino di lavoro in più. E auguri a tutti. Bene, a questo punto io vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento per l'ultima puntata dove andremo a rivisitare insieme ai nostri ospiti il 1998, ovvero l'anno che si sta per concludere. E come al solito da parte di Gianni Tazzarella, un arrivederci. Grazie.